Siamo arrivati al primo anno, Marco Sabatino di Roma, il secondo amico, Luca Grazia, Roma. Saludiamo al video scelte di Emanuele Terenzi e al segno oggi, elettronico, Sabatino Roio. Un applauso per il interabitare in questo incontro. E adesso siamo pronti per rappresentare lo start in sista della Tori Mercano 1991, Tori numero 4, Ozzana Mottigana. Tori numero 7, Loraia Tassimba. Tori numero 12, Mekkezzi Perini. Tori numero 18, Eppa Caglietta. Tori numero 22, Federica Stufi. Tori numero 23, Giulia Gennari. Saludiamo il video, Tori numero 6, Giada Cettito. Il propagandatore Stefano Micoli ed il suo vice Marco Zanelli. Vandiamo a Giada Traforo e ci siamo. Vandiamo a Giada Traforo e ci siamo. Loraia Terenzi Pierrini. Tori numero 4, Giulia Gennaro. Tori numero 12, Il Valitone Ricci. Ingeri Garancini!